Musica Faccio di crack e cocaina nel quartiere a Ballarò a Palermo, maxi operazione dei carabinieri che hanno eseguito 25 provvedimenti cautelari. Un regolamento di conti e tentato omicidio nei confronti di un giovane di Adrano, arrestati i presunti responsabili. Attacco hacker ai distributori di sigarette di mezza Italia, erogati pacchetti di sigarette a 10 centesimi. La storia di Roberta Gandolfo che affronta la disabilità a passi di danza. Lo scorso anno ha vinto il campionato italiano come ballerina con disabilità fisico-motoria. I luoghi dei flori, una nuova app per valorizzare la storia, le dimore e i luoghi di lavoro legati alla celebre dinastia. Musica Benvenuti alla seconda edizione del TG Media News di mercoledì 29 marzo. Abbiamo sentito i titoli, spaccio di crack e cocaina nel quartiere a Ballarò a Palermo, maxi operazione dei carabinieri che hanno eseguito 25 provvedimenti cautelari. Spaccio di droga nel mercato di Ballarò. I militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Palermo, Piazza Verdi, hanno seguito 25 provvedimenti cautelari, 4 in carcere, 5 a domiciliari, 7 di obbligo di imora nel comune di Palermo e 9 di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine è stata coordinata dalla procura guidata da Maurizio De Lucia. L'attività di indagine, iniziata tra giugno e dicembre del 2020, ha permesso di scoprire una piazza di spaccio dove era possibile acquistare crack, ma anche cocaina, hashish, marijuana e suboxone. Il commercio era attivo 24 ore su 24. La zona dello spaccio era tra via Nunzionasi, piazzetta Lucrezia Brunaccini e via Mongitore. Gli acquirenti erano minorenni e turisti e studenti. Per assicurare una vendita al dettaglio costante, l'organizzazione usava decine di pusher. Gli spacciatori avevano anche il ruolo di vedette ed erano soliti segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine utilizzando la parola in codice FAIRO. Le indagini hanno consentito di stimare il profitto giornaliero in 4.000 euro circa. Nel corso dell'attività sono state monitorate 256 vendite di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'operazione di stanotte sono stati eseguiti due arresti in flagranza e una denuncia in Stato di Libertà per la stessa accusa, sequestrate 85 grammi circa di crack, hashish e marijuana. I carabinieri del nucleo cinofili, impiegati per l'esecuzione delle misure cautelari durante le attività di perquisizione e controllo del quartiere, eseguito con l'aiuto del cane antidroga Ron, hanno individuato una maxiserra di marijuana indoor, allestita in un magazzino attrezzato con luci, tubi di aerazione e sistemi di irrigazione. Nella serra sono stati sequestrati diversi sacchi con infiorescenze di marijuana. Un regolamento di Conti è tentato omicidio nei confronti di un giovane di Adrano, arrestati i presunti responsabili. I carabinieri della stazione di Adrano e il nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato quattro presunti autori del tentato omicidio di un ventenne del posto con precedenti penali, brutalmente aggredito con bastonate, calce e pugni. La coppia, un uomo di 42 anni e suo figlio di 21, è stata arrestata sul posto per il crimine, mentre altri due sospetti, un pregiudicato di 32 anni e un uomo incensurato di 22, sono stati fermati dopo un'articolata attività di indagine. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente dopo aver ricevuto una segnalazione di una persona ferita e hanno trovato il ragazzo a terra in stato di semi-incoscienza e gravemente ferito, ma inizialmente ha dichiarato di essere caduto accidentalmente. Dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, gli agenti hanno iniziato le indagini che hanno permesso loro di ricostruire l'aggressione attraverso l'acquisizione di informazioni e la conoscenza dei soggetti di interesse operative del territorio. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza vicine al luogo dell'aggressione, è emerso che i quattro uomini hanno brutalmente picchiato la vittima senza pietà, anche quando era già indifeso. Gli arrestati, compresa la vittima, non hanno fornito alcun motivo per l'aggressione, ma i carabinieri ritengono che potrebbe essere stato regolamento di conti a seguito di una rissa accaduta pochi giorni prima ad Adrano. Tutti e quattro sospetti sono stati incarcerati e dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio in concorso. Sequestrata a Palermo una discarica abusiva di oltre 1200 metri quadri nei pressi del velodromo dello Zen denunciate due persone per combustione illecita di rifiuti. Sentiamo. La Guardia di Finanza ha sequestrato un'estesa area rurale nelle vicinanze del quartiere Zen ad invita a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi. L'attività nasce a seguito del controllo aereo e seguito agli equipaggi della sezione aerea di Palermo che notavano un'insolita colonna di fumo che si inalzava nei pressi del velodromo Paolo Borsellino. Attraverso il sistema di videoripresa ad alta risoluzione in dotazione mezzi aeree delle fiamme gialle è stato individuato un vasto appezzamento di terreno nonché la presenza di due persone che spostavano rifiuti potenzialmente pericolosi. L'area, estesa a circa 1200 metri quadrati, era contaminata alla presenza di cumuli di materiali edili, scatti plastici e legnosi, pneumatici e laste di Eternit, spegnendo altresi un focolaio nel quale stavano ardendo pannelli di vetroresina e legno. Le due persone trovate sul luogo sono state identificate e segnalate all'autorità giudiziaria per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, nonché dell'illecita combustione degli stessi rifiuti. Attacco hacker ai distributori di sigarette di mezza Italia, erogati pacchetti di sigarette a 10 centesimi. Ne parla il dirigente provinciale della Federazione Tabacchi, Vincenzo Stupia. Il fatto potrebbe essere riferito alla richiesta della liberazione di Alfredo Cospito del 41bis. Sabato sera un attacco hacker ai distributori di tante tabaccherie d'Italia. Cosa è successo? Sabato sera praticamente ricevo la telefonata del mio responsabile del Sud Italia per quanto riguarda la Federazione Italiana Tabaccai. Io sono il presidente provinciale di Palermo. Mi allerta di questo tentativo di hackeraggio nei distributori di una certa marca di distributori di sigarette. Il fatto che le sigarette venivano erogate a 10 centesimi l'una? Sì, in pratica era apparso anche uno screen per quanto riguarda le consoli per il 41bis. Quindi è stato un attacco mirato. Però fondamentalmente il danno grave è stato fatto ai tabaccai perché con 10 centesimi si sono riempiti le file interminabili per cercare di accaparrare quanto più possibile. Noi per fortuna, ripeto, come federazione siamo stati subito allertati e nella nostra tempestività, nonostante fosse di sabato sera alle 8.20, già eravamo con molti tabaccai collegati tramite messaggi sia inizialmente con WhatsApp, poi la nostra federazione centrale da Roma ha inviato un messaggio a tutta la rete facendo proprio attenzione di attenzionare appunto i propri distributori. Al che così abbiamo in parte limitato i danni che purtroppo però a Palermo e in provincia si attestano intorno alla decina, anche sotto la decina di tabaccai colpiti. Giulia Argiroffi, consigliere comunale a Palermo, racconta lo spiacevole episodio nel quale è rimasta coinvolta a causa di un battibecco con un individuo che stava per buttare dei rifiuti in prossimità del liceo Regina Margherita. Sul fatto interviene il dirigente scolastico dell'istituto che chiede più controlli per la strada trasformata spesso in discarica a cielo aperto. A pochi metri da Regina Margherita a volte si crea una discarica ma lunedì sera è il paradosso? Sì, mi sono trovata ad assistere in diretta a un cittadino che stava abbandonando i suoi rifiuti in questo angolo di strada davanti alla scuola come purtroppo troppo spesso accade davanti a tutte le scuole della città forse nel centro storico questo fenomeno è particolarmente forte mi sono sentita in dovere, come in realtà succede ogni volta di non voltarmi dall'altra parte e di dire al signore di non lasciare i suoi sacchetti di spazzatura davanti alla scuola che ci hanno raccolto la differenziata e c'è un modo, un tempo per conferire i rifiuti e lui si è molto infastidito e mi ha verbalmente minacciata Una situazione che sembra perdurare nonostante gli sforzi della municipalizzata nel raccogliere i rifiuti, insomma nel cercare di prestare attenzione e informare i cittadini, ma cosa manca in questa città? Allora in realtà è un po' un circolo vizioso perché da una parte chi raccoglie i rifiuti si lamenta che questi non sono conferiti a dovere dall'altra è vero anche che i cittadini, soprattutto di questa parte di città da via Roma, del centro storico, da via Roma a mare dove la raccolta differenziata è partita da qualche anno non sono effettivamente messi nelle condizioni di farla per come si deve Come si è sentita quando è stata, diciamo, rimbrottata da questa persona che lei ha retarguito? La cosa che mi è dispiaciuta di più è che ero con mio figlio che invece si è spaventata. Io in realtà non mi spavento anzi forse dal video si vede anche un po' che riprendendo volevo documentare e quindi in qualche modo ho anche provocato la reazione perché si sentiva impunito. Poi la documentazione video e fotografica lo inchioda alle sue responsabilità Ma davanti al reggina Margherita devo dire in più di una delle sue sedi perché adesso di recente come è stato documentato dal consigliere Argiroffi è successo davanti alla sede del liceo musicale ma succede spesso anche davanti al plesso Cascino e ci vorrebbe intanto una maggiore efficienza da parte dell'amministrazione ci vorrebbe anche da parte dei cittadini una maggiore responsabilità Ecco, in questa strada tra l'altro ci sono parcheggiate macchine a destra e a sinistra forse è anche un po' difficile fare ricreazione per i ragazzi a tal proposito stai facendo una raccolta di firme Sì, è difficile l'ingresso, è difficile l'uscita, è difficile anche la ricreazione perché i ragazzi all'interno della scuola non hanno spazi dove fare ricreazione per cui escono e c'è il problema delle auto che passano continuamente per cui stiamo pensando di fare una raccolta di firme a supporto della proposta del consigliere Argiroffi per chiedere di chiudere la strada e ornarla con delle aiole che potrebbero essere curate dai ragazzi stessi in un progetto di educazione ambientale ed educazione civica Un addio straziante è quello dei genitori e degli amici di Gabriele Aserio il 18enne morto nella notte tra venerdì e sabato a Palermo in un terribile incidente stradale in Viale Strasburgo Più di mille persone addolorate e commosse hanno partecipato ai funerali di Gabriele Aserio il ragazzo di 18 anni morto nella notte tra venerdì e sabato a Palermo in un terribile incidente stradale in Viale Strasburgo un pallone sopra la bara con le firme dei suoi compagni di squadra le sue maglie di calcio e gli amici con delle t-shirt con il nome dietro Aserio 10 sempre con te numero 10 dicono gli amici i funerali di Gabriele sono stati celebrati al Don Bosco una vita fatta di grandi passioni dal calcio agli amici una famiglia molto conosciuta in città il padre di Gabriele Antonio Aserio è il responsabile regionale dell'associazione Iceliaci ha lavorato nell'ufficio di gabinetto all'ex presidente della regione Totto Cuffaro e per l'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e la sua famiglia fa parte del Rotary Club Costa Gaia in moto con Gabriele quella notte c'era un suo amico di 17 anni che è ancora in prognosi riservata a Villa Sofia le sue condizioni sono gravi ma stabili continuano le indagini della polizia municipale fino ad ora la tesi più accaditata sembrerebbe quella dell'incidente autonomo Gabriele avrebbe perso il controllo dello scooter per poi schiantarsi contro un albero ma non è esclusa l'ipotesi di un'auto pirata che possa aver tagliato la strada al mezzo e ai due ragazzi poco personale nella stazione dei carabinieri disagi soprattutto a Palermo, Trapani e Caltanissetta nasce un nuovo sindacato un tavolo permanente dedicato ai carabinieri che prestano servizio nelle stazioni ben 412 dislocate in tutto il territorio regionale comprese le isole minori la richiesta porta alla firma del nuovo sindacato carabinieri Sicilia che sottolinea la necessità di affrontare e risolvere le criticità legate alla carenza di personale un disagio che secondo la sigla tocca anche punte del 30% in alcuni casi tra le realtà che con maggiore urgenza necessitano di risposte figurano Caltanissetta, Trapani e Palermo le richieste del sindacato ruotano attorno alle stazioni fondamento del modello organizzativo dell'arma la loro diffusione capillare ai fatti rende più efficace la lettura del territorio da parte dei militari ne derivano iniziativa e interventi che si traducono in punti di ascolto, accoglienza e legalità in attesa delle assemblee con i militari dell'arma che si terranno nei luoghi di lavoro un punto su cui il comandante generale Teo Luzzi si è già impegnato il nuovo sindacato carabinieri ha già avviato un confronto interno oltre all'appello rivolto al governo c'è anche un invito diretto alle nuove sigle sindacali affinché si uniscano a dare sostegno alla richiesta di assunzioni straordinarie già espressa dallo stesso comandante generale e oltre al comandante generale dell'arma il nuovo sindacato carabinieri ringrazia il generale di corpo d'armata Riccardo Galletta e il generale di brigata Antonio Di Stasio già capo ufficio relazioni con le associazioni professionali a carattere sindacale Sanità svolta importante per i fisioterapisti italiani che per la prima volta dopo aver istituito un proprio ordine lo scorso dicembre eleggeranno gli organismi direttivi votazioni anche in Sicilia questo weekend a Trapani e Palermo Sabato 1 aprile e domenica 2 aprile si svolgeranno le elezioni per eleggere gli organismi direttivi del nuovo ordine dei fisioterapisti delle province di Palermo e Trapani ed è un fatto importante perché è la prima elezione dell'ordine dei fisioterapisti una professione che si è staccata da un maxi ordine a dicembre scorso e adesso si stanno realizzando in tutta Italia le elezioni sono 38 gli ordini in Italia e da queste elezioni poi scaturiranno gli organismi interni i consigli direttivi e poi si adeggeranno gli organismi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti come tutte le professioni sanitarie le professioni vanno tutelate per garantire il diritto alla salute dei cittadini quindi va garantita la responsabilità, l'indipendenza, l'autonomia della professione ma anche gli aspetti tecnico-professionali ma soprattutto va tutelato l'esercizio professionale della professione rispetto anche a tanti casi di abusivismo presenti quindi l'ordine si propone di tutelare i cittadini da abusi della professione infatti uno dei consigli che diamo ai cittadini se si rivolgono a un fisioterapista è quello di verificare nel sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti se la persona a cui si sono rivolte è iscritta all'ordine perché l'iscrezione all'ordine è una garanzia di professionalità perché è sicuramente un professionista abilitato ESA viabilità rurale in Sicilia piano di interventi da 10 milioni di euro si tratta di un'occasione importante che contribuirà a rendere più funzionale la rete stradale rurale colmando quelle carenze che limitano la piena operatività di molte aziende agricole siciliane migliorare i collegamenti stradali delle aree rurali per aiutare le imprese agricole siciliane ad essere ancora più competitive così l'assessore regionale all'agricoltura Luca Sanmartino commentando il piano dell'ESA all'ente sviluppo agricolo che prevede un investimento complessivo di 10 milioni di euro in programma interventi per il ripristino, la manutenzione straordinaria e il miglioramento di infrastrutture viarie rurali già pubblicata dall'ESA la manifestazione di interesse per la selezione dei progetti esecutivi seguendo la sottomisura 4.3.1 del PSR Sicilia del 2014-22 i beneficiari dell'iniziativa sono le amministrazioni comunali le città metropolitane e i liberi consorsi sovracomunali gli enti potranno partecipare con la presentazione di una sola domanda relativa ad un solo progetto esecutivo per un importo dei lavori che al netto dell'IVA e delle spese generali dovrà essere compreso tra un minimo di 100.000 euro e un massimo di 500.000 euro la tipologia del sostegno è sotto forma di contributi e il finanziamento coprirà l'intero importo del progetto il 100% il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 23 giugno prossimo migliorare i collegamenti stradali significa anche sostenere il turismo rurale che permette la valorizzazione di prodotti, paesaggi e aspetti culturali della nostra terra la storia di Roberta Gandolfo, 22 anni che affronta la disabilità a passi di danza per anni in sedia a rotelle, per una tetra paresi spastica a causa di un errore medico lo scorso anno ha vinto il campionato italiano come ballerina con disabilità fisico-motoria per anni in sedia a rotelle con tutti e quattro gli arti paralizzati a causa di una tetra paresi spastica è la storia di Roberta Gandolfo, una ragazza di 22 anni di alto fonte che nella disabilità ha trovato lo slancio per risalire e ricominciare ed è quello che ha fatto incontrando per la prima volta la danza è Noemi Santoro, insegnante della scuola The Queen of Dance di Palermo insieme hanno lavorato con tenacia e passione per raggiungere il traguardo del titolo italiano come ballerina con disabilità fisico-motoria è stato il 18 luglio 2021 ed è stata una grandissima emozione perché là, soprattutto in quel mondo, nel mondo della disabilità non c'è rivalità sono tutti amici, tutti si applaudono con tutti ed è stata una bella emozione una storia d'amore per il ballo ma anche di forza che la 22enne ha deciso di mettere nero su bianco nel suo libro Ti racconto una storia felice è disponibile su Amazon, solo su Amazon e c'è tutta la mia vita, la mia famiglia, c'è tutto il trascorso con la danza, Federico che è il mio ballerino nel 2021 abbiamo raggiunto il gradino più alto per quanto riguarda la danza paralimpica ed è stata un'emozione indescrivibile io conoscendo lei mi si è aperto un mondo però piano piano stiamo riuscendo a raggiungere tantissimi obiettivi anche con altri ragazzi, anche con altre disabilità e quindi questo è un fortissimo orgoglio per noi appunto aver portato Roberta al gradino più alto e allo stesso tempo anche tantissimi altri ragazzi una cosa che ci piacerebbe tantissimo realizzare è un'associazione per i ragazzi con tetraparesi spastica cosa che ad oggi in Sicilia non c'è questi ragazzi lottano da soli senza avere un aiuto senza avere un sostegno le famiglie, i ragazzi stessi quindi sarebbe bellissimo riuscire a lottare tutti insieme appunto per avere questa possibilità di essere tutti uniti a livello di inclusione a livello di corsi di formazione a livello di tutto e nei suoi occhi c'è ancora la speranza di poter continuare a vivere la sua disabilità a piccoli passi ma continuando a ballare Roberta si emoziona ma sorride pensando alla sua prossima gara di ballo a luglio a luglio parteciperò ad un nuovo campionato con un ballo speciale dedicato alla mia mamma sarà una grandissima emozione anche se per me sarà un ballo difficile ma ce la farò i luoghi dei flori una nuova app per valorizzare la storia le dimore i luoghi di lavoro legati alla celebre dinastia nelle province di Palermo e Trapani il progetto è stato presentato a Palermo a Villa Zito Fondazione Sicilia ci troviamo presso la tonnare a Florio realizzata appunto dalla storica famiglia Florio nel quartiere Arenella di Palermo dove sorge la palazzina dei quattro pizzi ricca di una lunga storia di cento anni e piena di emozioni e ricordi adesso a voi Florio è dedicata persino un'app chiamata proprio i luoghi dei Florio con il contributo della Fondazione Sicilia ci spiega questo vostro progetto e l'obiettivo allora l'idea è nata qualche anno fa chiaramente a causa della pandemia l'abbiamo dovuto rimandare finalmente ha preso forma la Fondazione Sicilia ha creduto sin da subito a questo progetto l'intento è quello di guidare i visitatori verso questi luoghi che sono appartenuti alla famiglia in maniera più attiva e interattiva infatti l'applicazione che al momento è nella versione beta sarà implementata anche di altri contenuti ci saranno dei contenuti multimediali ci saranno delle videoguide ci sarà una audiolettura per esempio per i non vedenti oppure ci saranno dei sistemi di interazione anche con attività commerciali nella città di Palermo che dietro degli accordi presi con Casa Florio potranno dare dei servizi ulteriori al visitatore lungo questo percorso in città i luoghi interessati saranno chiaramente quelli più conosciuti come il Villino Florio, il Quattropizzi dove siamo adesso la Tonnara di Favignana indicheremo anche dei luoghi per esempio che non sono conosciuti o comunque non frequentati o comunque che non sono al momento visitabili o perché non esistono ma comunque daremo un'indicazione di dove esiste per esempio la fabbrica delle ceramiche Florio che oggi non esiste più però indicheremo qual è il luogo, come era organizzata qual era l'edificio, quali erano i tipi di ceramica che venivano realizzati all'interno di questa fabbrica ma così come per esempio la Fonderia così come per esempio l'Evanzo c'è oggi di proprietà Prada un altro edificio che era appartenuto alla famiglia Marsala ovviamente, le Cantine Florio le Cantine Florio con cui c'è un'ottima collaborazione visto che tra l'altro l'applicazione servirà a guidare anche il visitatore a conoscere di più per esempio questi vini nostri il Marsala perché purtroppo oggi il vino Marsala non è conosciuto come un tempo e allora bisogna reeducare il pubblico a conoscere questi vini e sapere come berli e con che cosa accompagnarli quindi c'è un percorso abbastanza ampio che al momento è partito con la versione beta attraverso il percorso dei Florio eccetera ma man mano che verrà implementato il visitatore si troverà completamente guidato in tutto quello che è stato il mondo Florio in questa nostra magnifica isola in occasione del quattordicesimo anniversario della primavera delle scienze rigeneriamo il futuro della scuola Cosmo Guastella di Misilmeri è stato emesso da Poste Italiane uno speciale annullo filatelico commemorativo è un grande privilegio poter collaborare con questo grandissimo progetto che evidentemente la dice lunga parte da lontano ma è un progetto che vede già da più di quattordici anni appunto la scuola impegnata in questo grande tema sociale che è appunto quello della rigenerazione del futuro e quello dell'ecosistenibilità dell'ambiente sono temi molto attuali ma se noi pensiamo che partono da lontano partono da quattordici anni fa la dice lunga la testimonianza dell'impegno della scuola su questi temi parliamo ai cittadini ai cittadini già di oggi perché giovani sono già i cittadini di oggi quelli a cui questo evento di tre giorni che inizia oggi qui al palazzetto dello sport Marco Seitta di Misilmeri sono stati coinvolti tutti i ragazzi delle terze della nostra scuola i ragazzi assieme ai docenti di arte hanno realizzato un logo e una cartolina per l'annullo filatelico infatti quello che è stato poi alla fine scelto è stato immortalato in questa pubblicazione che è stata fatta naturalmente è importante perché è importante perché questo resterà nella è stata prodotta dalla Zecchia dell'Ostata e quindi resterà proprio nella storia d'Italia e quindi nella storia del nostro paese ho compreso tutti i corretti comportamenti da adottare per un futuro più sano la prof ci ha anche parlato del tema di quest'anno per la primavera delle scienze che è rigeneriamo il futuro da ciò mi sono ispirata e ho deciso di rappresentare due ragazze che sono il simbolo della generazione futura mentre piantano un albero che è simbolo di vita e di speranza inoltre ho aggiunto anche l'acqua che è di vitale importanza per tutti gli esseri viventi così ho voluto comunicare che è il futuro nelle nostre mani ed è molto importante salvaguardare l'ambiente quest'anno noi anche per celebrare diciamo come dire una fine della pandemia perché la primavera della scienza l'abbiamo mantenuta anche durante la pandemia abbiamo voluto sigillare questo momento con l'annullo filatelico che ha un significato importantissimo per la scuola un significato che un po' appartiene a tutti perché la primavera della scienza è una grande impresa collettiva è un evento in cui tutti ci sono e ci devono essere con alcuni padri fondatori che mi piace ricordare Alfredo Guido, Matteo Cavallaro e poi tanti padri, tante madri come ho detto nel discorso iniziale che ne hanno affiancata con una didattica viva e attiva che ci permette di stare dentro il territorio e di portare la scienza sul territorio quindi non posso che ringraziare ci sono, non posso citare tutte le persone che vorrei ringraziare ma sono talmente tante il frutto di un duro lavoro di squadra ma piacevolo di una comunità che crede nell'educazione permanente che crede nella sostenibilità ambientale e che la vuole insegnare con l'approccio laboratoriale domani e dopodomani saremo fuori saremo a Misilmeri saremo per le strade a divulgare sostenibilità a divertirci con la scienza un progetto che resiste perché piace ai ragazzi perché i ragazzi partecipano un progetto che ogni anno sboccia e si nutre di esperienze diverse quindi io non posso che ringraziare il pomeriggio di oggi bellissimo molto significativo c'era la comunità riunita una coralità di intenti e soprattutto di passione e di entusiasmo e quindi sono sicura sono sbocciate 14 primavere ne sbocceranno ancora tante grazie a tutti bene questa era l'ultima notizia vi ringrazio per averci seguito vi do appuntamento alla prossima edizione del TG Media News grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti